Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video, oggi andiamo a vedere una partita tra AlphaZero, l'intelligenza artificiale creata da Google e Stockfish, il programma di scacchi campione del mondo. Questa è una partita di altissimo livello, un livello che nessun essere umano potrà mai raggiungere. AlphaZero gioca un gambetto che i grandi maestri di oggi non utilizzano più perché ritenuto troppo sconveniente e rischioso. Ma AlphaZero vince lo stesso. Possiamo affermare che nel 2018 AlphaZero abbia risolto il gioco degli scacchi, perché è oltre le capacità umane. Una piccola precisazione, oggi AlphaZero non esiste più, è stato solo un esperimento. Google ha voluto dimostrare al mondo che l'intelligenza artificiale batte tutti a scacchi, a Go, in qualsiasi ambito. Prima di iniziare ricordo a tutti di mettere mi piace e di iscrivervi al canale, grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo e iniziamo. Ok, eccoci qui. AlphaZero gioca con i pezzi bianchi e inizia con pedone E4. Stockfish risponde con E5, segue cavallo F3, cavallo C6, alfiere C4. Rientriamo nella partita italiana, Stockfish gioca alfiere C5 e AlphaZero continua con B4. Rientriamo nel gambetto Evans. Oggigiorno questo gambetto ad alti livelli non viene mai giocato, ma con questa partita possiamo evidenziare la complessità del gioco degli scacchi e di come siamo lontani noi esseri umani dal giocare a questo livello. Stockfish gioca la variante principale con alfiere per B4, segue pedone C3, l'idea chiaramente è quella di spingere in D4, alfiere A5, pedone D4. Queste chiaramente sono tutte mosse molto conosciute, la teoria degli scacchi ad oggi è molto approfondita, quindi niente di strano per ora. Stockfish gioca a D6, AlphaZero continua con donna B3, mette pressione sul pedone in F7, segue donna D7 per difendere F7, cavallo D2, alfiere B6 e AlphaZero mette il real sicuro con arrocco. Stockfish continua con cavallo A5, attacca la donna e l'alfiere, AlphaZero porta la donna in C2, segue pedone per D4, pedone per D4 e cavallo E7. Stockfish si prepara ad arroccare, non ha debolezze e ha un pedone in più. La partita continua con torre 1, arrocco, Stockfish mette il real sicuro appunto, e AlphaZero qui decide di mantenere la coppia degli alfieri giocando alfiere F1. Donna D8 per Stockfish per fare spazio all'alfiere e AlphaZero gioca alfiere A3. Quando è stata giocata questa partita nessuno aveva mai giocato alfiere A3 in questa posizione. Solo dopo i vari maestri internazionali e grandi maestri hanno iniziato a giocare questa variante, ovviamente copiandola da AlphaZero. Stockfish qui gioca cavallo G6 e AlphaZero continua con pedone D5. Sta controllando le case chiare, vuole limitare i movimenti dell'alfiere campo chiaro. Stockfish sviluppa la torre in E8, attacca il pedone in E4, AlphaZero continua con alfiere in B4, attacca il cavallo, segue torre B8, torre D1 e pedone C6. Con pedone C6 Stockfish vuole dare una casa al cavallo perché il cavallo qui non può andare da nessuna parte. AlphaZero però non cattura il pedone ma gioca a donna B2. Controlla le case scure. Segue pedone C5, Stockfish attacca l'alfiere. Alfiere C3, batteria di alfiere e donna che attaccano G7, quindi Stockfish deve difendersi con pedone F6. E AlphaZero gioca pedone A4. Una partita molto complicata per ora, molto strategica, con mosse anche molto difficili da capire. Stockfish continua con alfiere C7. AlphaZero gioca donna A2, cioè guardate che mossa. Sfido chiunque a dirmi a cosa serve la mossa in A2. Probabilmente perché era attaccata al raggio X dalla torre, può darsi. Torre 7 per Stockfish. Pedone H3. AlphaZero limita ancora di più le case all'alfiere Campochiaro. Ora l'alfiere può essere sviluppato solo in D7. E infatti Stockfish continua proprio con alfiere D7. Segue torre A1, Re H8, cavallo H2, alfiere B6. Qui sembra che i due motori si stiano studiando, in realtà fanno dei calcoli molto lunghi, precisi e complessi. Nessun umano può arrivare a calcolare tutta questa roba. AlphaZero continua con torre B1. Segue Re G8, cavallo F3. Guardate che roba, cavallo H2, cavallo F3. Alfiere in E8. Re H2, mossa impossibile, Re H2 ragazzi. Ora ditemi voi, arriverà mai qualcuno che giocherà a scacchi in questo modo? Re H2 in questa posizione? No, perché leggendo i commenti a volte c'è qualcuno che pensa che l'essere umano può ancora battere i motori di scacchi. Quando in realtà la sfida uomo-macchina è stata decisa da più di vent'anni fa. Karzen oggi ha paura di giocare contro i motori. Dice che non ci gioca perché non ha senso giocarci, dato che i motori sono troppo stupidi. Ma in realtà sa benissimo che perderebbe. Stockfish continua con alfiere C7. Segue torre B2. Torre A8. Guardate che mosse. Torre A1. Alfiere D7. Donna B1. Sembra che A0 abbia mobilitato i suoi pezzi sul lato di donna per attaccare sul lato di donna. In particolare la casa B7. Vuole fare fuori il cavallo ed entrare di torre in B7. Ecco perché Stockfish gioca alfiere D7 per poi giocare alfiere C8. E infatti in questa posizione gioca alfiere C8, difende il pedone in B7. Ora guardate il piano diabolico di alfa 0. Segue cavallo G1. Ma cosa serve cavallo G1? Serve a giocare cavallo E2, cavallo G3, cavallo F5. Attaccare la torre, avere un ottimo cavallo in F5. E poi a quel punto l'alfiere in C8 è sovraccarico. Perché deve difendere B7 e deve stare attento al cavallo in F5. Segue donna F8 per Stockfish. Cavallo E2. Pedone F5, cavallo G3. Vedete alfa 0 continua con il suo piano. Pedone F4, cavallo F5. Obiettivo raggiunto. Calcolo pazzesco. Alfa 0 attacca la torre. Stockfish cattura il cavallo in F5. Segue pedone per F5, cavallo E5. E ora questo pedone è debole. Alfa 0 sta per perdere un altro pedone. Segue cavallo F3. Donna F6, donna C2, pedone B6, torre E1, torre F8. Stockfish si prepara a catturare il pedone in F5. Donna D1, torre D7. Alfiere in B5 per attaccare la torre. Stockfish sposta la torre in D8. Segue torre C2, una semplice mossa. Cosa serve torre C2? Serve a difendere l'alfiere. Serve a non lasciare pezzi sospesi. Tutti i pezzi a scacchi devono comunicare tra di loro. Donna per F5. Vedete dopo quanto tempo Stockfish cattura il pedone in F5? Bene, ora Stockfish si ritrova con due pedoni in più. Ma Alfa 0 qui ha già calcolato tutto. Io credo che questa sia la partita definitiva di Alfa 0. Torre E2. Alfa 0 raddoppia le torri. Cavallo B7. Alfiere A6 attaccando il cavallo. Il cavallo si sposta in A5. Torre E4. Alfa 0 cerca di attivare al massimo i suoi pezzi. Donna F6. Alfiere B5. Cavallo B7. Alfiere C4. Ecco, questa può sembrare una mossa strana. Ma in realtà Alfa 0 ha un piano ben preciso. Intanto il cavallo non può catturare l'alfiere perché segue alfiere per donna. E Alfa 0 vuole portare l'alfiere in A2, poi in B1 per controllare questa lunga diagonale. Segue cavallo A5. Alfiere A2 appunto. Re H8. Alfiere B1. Da prima Alfa 0 aveva mobilitato tutti i pezzi sul lato di donna. E ora li sta concentrando tutti sul lato di Re. Vedete, tutti i pezzi ora sono concentrati sul lato di Re. Segue torre E8 per Stockfish. Re G1. Re G8. Pedone H4. Qui l'attacco ha inizio. Stockfish gioca pedone C4. Arriva cavallo G5. Ormai l'attacco è inarrestabile. Stockfish è stato messo completamente fuori gioco. Pedone G6. Cavallo E6. Alfa 0 attacca l'alfiere in C7. Attacca la torre. Attacca il pedone in F4. Stockfish allora decide di sacrificare la qualità. Torre per cavallo. Segue pedone per torre. Donna per pedone. Stockfish qui ha due cavalli e tre pedoni per torre e alfiere. Compenso sufficiente. Solo che alfa 0 sta molto meglio posizionalmente. Segue alfiere A2. Alfa 0 inizia a mettere pressione sul pedone in C4. Re G7. Donna E2. Vedete alfa 0 insiste. Attacca il pedone in C4. Torre F6. E qui arriva una mossa pazzesca. Alfiere per C4. Alfa 0 risolve con una combinazione micidiale tutta la posizione e passa in vantaggio. Guardate cosa succede. Cavallo per. Donna per cavallo. Se il nero cattura di cavallo segue torre per. Quindi donna per donna. Torre per donna. Cavallo per. Torre E7 scacco. La torre in F6 è inchiodata. Quindi il re si deve spostare in F8. Alfiere per torre. E alfa 0 riprende indietro tutto il materiale. Incredibile ma vero. Alfiere D8 per Stockfish. Torre in E4 per attaccare il cavallo e il pedone in F4. Cavallo D2. Torre per F4 difendendo l'alfiere. E per la prima volta nella partita dopo 62 mosse. Alfa 0 passa anche in vantaggio materiale. Qui ha la torre per cavallo e pedone. Cavallo e pedone valgono 4 punti. La torre vale 5 punti. È la prima volta nella partita che succede questo. Perché vi ricordo che ha sacrificato un pedone subito in apertura. Stockfish continua con alfiere per F6. Segue torre per F6 scacco. Re 7 per difendere il pedone. Torre F4. Ora questo finale è vinto per il bianco. Però giustamente fanno continuare la partita. Perché comunque è abbastanza complicato come finale. Stockfish continua con cavallo B3. Alfa 0 gioca a Re F1. Inizia a mobilitare il Re. Segue cavallo C5 attaccando il pedone in A4. Pedone H5. Alfa 0 vuole doppiare questi due pedoni. Stockfish non accetta. Gioca pedone A5. Segue Re E2. Cavallo E6 attaccando la torre. La torre si sposta in C4. Sta per entrare in qualche modo. Cavallo C5. Re E3. Re E6. Torre G4. Alfa 0 ora minaccia guadagnare un pedone. Stockfish difende con il Re. Segue torre D4. Per attaccare il pedone in D6. Re E6. Pedone H6. Alfa 0 dopo aver lasciato per tutte quelle mosse il pedone in presa. Decide di mantenerlo e gioca il pedone H6. Stockfish ritira indietro il Re. Segue pedone F4. Cavallo E6. Torre D2. Ok non è proprio facile questo finale. Però vedrete che non c'è assolutamente niente da fare per il nero. Cavallo C5. Torre A2 per difendere il pedone. Cavallo D7. Torre B2 per attaccare. E Re in F6. Ora finalmente Stockfish non può più fare nulla. Se muove il cavallo cade il pedone in B6. E forse anche quello in D6. E poi dopo anche quello in A5. Quindi Alfa 0 qui gioca torre B5. Stockfish abbandona. O meglio lo fanno abbandonare. Perché qui non può fare assolutamente niente. Ora vediamo insieme che è così. Perché in pratica il nero è quasi in Zuzwang. Ad esempio cavallo C5. Segue torre per pedone. Sta per saltare il pedone in D6. Sta per saltare anche il pedone in A5. Quindi Stockfish può solo muovere il Re. Può aspettare. Allora segue Re in D4. Re 6. Pedone in G4. Re E7. Pedone in G5. Re 6. Re in E3. Mossa molto importante. E dopo Re 7. Pedone in F5. Ecco qui che ora Stockfish non può più fare nulla. Perché dopo pedone per segue Re in F4. Alfa 0 sta per catturare di Re o di Torre. Ma di Re. Arriva Re in E6. Pedone in G6. E qui questa valida da abbandono. Perché dopo pedone per pedone. Pedone H7. E il pedone va a promozione. Questa è la partita. Oggigiorno il gambetto Evans ad alti livelli non viene mai giocato. Arriva Alfa 0 che sfida il campione del mondo di scacchi Stockfish. Il motore campione del mondo. Gioca il gambetto Evans. E vince la partita. Grazie a tutti per la visione di questo video. Vi ricordo di mettere mi piace e di iscrivervi al canale. Ciao e alla prossima. Grazie a tutti.